vuoi informarti informarti orientarti nel caos contemporaneo ascolta radionomalibera.org la prima emittente di podcast cattolici in italia per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org fu un grande abate un grande architetto un protagonista nell'europa del mille a cui l'europa deve imperitura gratitudine il primo gennaio la chiesa lo ricorda parliamo di san guglielmo da volpiano abate di san benigne di digione egli fu l'artefice dell'edificazione della sublime abbazia di mont saint michel della quale disegnò personalmente la chiesa in stile romanico sta scritto nel martillo orologio romano nel monastero di fecamp in normandia transitò di san guglielmo abate di san benigno di digione che negli ultimi anni della sua vita governò con fermezza e prudenza i suoi moltissimi monaci distribuì in 40 monasteri severo e rigoroso gli venne dato l'appellativo di supra regulam ed è stato identificato con le figie rude dal piglio militare scolpita sul pulpito della chiesa di san giulio sull'omonima isola del lago d'orta in piemonte l'appellativo davo il piano deriva dalla località del canavese dove suo nonno vivo membro di una famiglia dell'alta aristocrazia germanica in seguito a una faida era stato costretto a rifugiarsi e dove acquistò dei beni l'ana quel padre roberto il nobile svevo conte durante il regno di berengario secondo in favore del quale intorno ai mesi di giugno luglio del 962 difese il castello di san giulio dagli attacchi di ottone primo il grande nel corso delle operazioni belliche venne alla luce guglielmo proprio nel castello di san giulio sul lago d'orta da roberto nobile svevo e da perinzia nobile di stirpe longobarda imparentata con il futuro re d'italia arduino nonché con lo stesso berengario secondo era l'inizio dell'estate del 962 e guglielmo era l'ultimo di quattro fratelli gli altri si chiamavano goffredo nitardo e roberto la sua nascita avrebbe indotto gli assediati a trattare la resa e ottone a essere clemente al punto che accettò di tenere a battesimo guglielmo come suo padrino e l'imperatrice dell'aide gli fece da madrina nel 969 guglielmo quando aveva sette anni venne presentato come oblato nel monastero di san michele di lucedio nella diocesi di vercelli di notevoli capacità intellettive compì brillantemente gli studi grammaticali a vercelli e a pavia ed ebbe incarichi di insegnamento gli fu inoltre affidata quando non aveva ancora vent'anni la cura degli affari interni ed esterni dell'abbazia in opposizione al vescovo di vercelli che considerava contrario allo spirito evangelico guglielmo dopo un pellegrinaggio al monastero di san michele della chiusa tornato a lucedio nel 987 conobbe maiolo abate di cluny e a lui si legò entrando nell'abbazia borgognona e divenendone monaco e ricevendo il diaconato nel 988 fu posto alla guida del priorato cluniacense di saint saturnin sur ron attuale pont saint esprit il suo trasferimento in borgogna fu dettato sia dal desiderio di abbracciare una forma di monachesimo indipendente dalle autorità diocesane come quello cluniacense sia dall'unione parentale che aveva per parte materna con ottone guglielmo conte di manson e poi duca di borgogna e con brunone vescovo di langrè entrambi interessati a dare nuovo impulso alla vita monastica nei territori di loro giurisdizione proprio su invito di quest'ultimo il 24 novembre 989 guglielmo si insediò con 12 monaci cluniacensi nel monastero di sen benigne di digione subentrando ad un'altra comunità che qui era stata presente fino al loro arrivo a digione la sua fama di predicatore è immensa riempie l'abbazia di fedeli le sue umelie convertono le anime e i cuori più induriti la sua autorità si amplifica ancor più quando durante i lavori di restauro e di ampliamento dell'abbazia stessa si rinviene la tomba del martire benigno evangelizzatore ancora ai tempi dell'antica roma della borgogna per secoli il luogo sarà meta di straordinari e molteplici pellegrinaggi e darà alle consuetudines di digione autorità ed autonomia liturgica e catechetica che definitivamente staccherà dalla casa madre di clunii il cenobbio di digione e le sue dipendenze anche normanne quando morì la madre perinzia il monaco ventenne come scrisse il biografo rodolfo il glabro cominciò a pensare al modo di sottrarre il padre alle burascose preoccupazioni di questo mondo e così facendogli avvedutamente portare numerosi doni lo condusse al monastero dove terminò la sua esistenza con una santa morte il monastero era quello di lucedio di straordinaria lucidità mentale e sentimentale sono le lettere che scriveva al padre rimasto vedovo segno del suo formidabile autocontrollo sulle passioni umane e sulla chiarezza della sua fede naturale e soprannaturale segni distintivi della sua personalità che gli procurarono ampia ammirazione ma anche antipatie ed ostilità venne ordinato sacerdote nel 990 e fu nominato abate di saint benigne titolo che mantenne fino alla fine dei suoi giorni gli venne data la guida anche di altri conventi sottoposti all'autorità di brunone tale abbazie conservarono sotto l'abate guglielmo grande devoto di san michele arcangelo il proprio statuto e restarono indipendenti anche dal san benigne di digione che divenne in breve tempo uno dei maggiori centri di irradiazione della riforma monastica di tutto l'occidente importante in tal senso appare la restaurazione spirituale e materiale dell'abbazia di san benigne ma soprattutto della sua chiesa in rovina la consacrazione della parte maggiore dell'edificio sacro venne celebrata il 30 ottobre 1016 da lamberto vescovo di langrè la struttura di digione trova collegamenti con le cripte carolinge a rotondo orientale e la chiesa in genere può ritenersi nella sua complessità una sintesi di forme preromaniche borgognone ottoniane italiane arricchite da reminiscenze antiche l'abbazia divenne modello spirituale e architettonico perciò fu meta di visita anche da parte di specialisti costruttori non è possibile valutare tutte le influenze esercitata dall'abate guglielmo nella costruzione di chiese italiane come per esempio quella di santo stefano evrea o francesi come sensei nell'abbaye in borgogna notevole comunque fu il ruolo di mediazione che egli esercitò fra l'italia e la francia enrico il grande duca di borgogna e zio di ottone guglielmo lo pose a capo del cenobbio di saint vivant di vergis nella diocesi di otton nel 994 san guglielmo sottoscrisse il documento di elezione di odilone di clunì ad abate del cenobbio cluniacense nel 995 entreprese un primo viaggio in italia dove fu pellegrino a roma qui papa giovanni quindicesimo gli confermò il controllo dei monasteri di besè e di digione e si recò anche a benevento fino al santuario pugliese di san michele a monte sant'angelo la capacità di coniugare la riforma della disciplina regolare con le esigenze dei proprietari laici ed ecclesiastici di celle e monasteri garantì successo dell'opera riformatrice di guglielmo che tornato in francia ricevette prima del 996 la donazione di saint benigne della chiesa di saint hubert sur horn da parte di riccardo primo duca di normandia nel 996 997 estese la propria riforma alla lotta ringia dove gli furono affidati saint arnaud di mezz e saint evra di tulle scese nuovamente in italia fra il 999 e il 1001 tornò a roma e si recò a farfa dove introdusse la riforma cluniacense durante il viaggio di ritorno venne colpito dalla malaria e fu costretto a soggiornare nel monastero di santa cristina sull'olona poi a vercelli e infine nelle terre dove era radicata dal punto di vista patrimoniale la sua famiglia proprio allora avviò con i suoi fratelli i quali elargirono sostanziose donazioni le trattative per la costruzione del convento di san benigno di fruttuaria a san benigno canavese nella diocesi di ivrea il duca riccardo secondo lo richiamò in francia dove assunse l'abbaziato del monastero la trinité di fecamp prima tappa dell'irradiazione della sua riforma in normandia centro polpulsivo della sua opera rimase san benigno attorno alla quale raccolse anno dopo anno numerosi priorati chiese e celle organizzando una straordinaria rete monastica da alcune fonti pare che in occasione del suo terzo viaggio in italia il cenobio di fruttuaria sia stato consacrato il 23 febbraio 1300 nel 1500 il monastero ebbe un diploma di conferma dal re d'italia arduino i suoi buoni rapporti con il sovrano spiegano la sua opposizione al vescovo leone di vercelli schierato contro il sovrano italico in favore di enrico secondo tuttavia dopo la sconfitta di arduino l'abbate guglielmo ricevette un diploma per fruttuaria anche da enrico secondo nel 1006 dopodiché la chiesa del monastero venne consacrata in sua presenza pare che nel 1012 raggiunse roma per chiedere a papa benedetto ottavo la protezione apostolica su fruttuaria certa e la sua presenza nella penisola fra il 1014 1015 quando ottenne documenti di conferma per monastero canavesano da enrico secondo e di nuovo da benedetto ottavo fu consigliere di roberto secondo re di francia che nel 1026 lo pose la guida del monastero parigino di saint germain de pre di nuovo in italia fra il 1026 1028 ottenne due diplomi per fruttuaria da corrado secondo emanati il primo evrea e il secondo dopo l'incoronazione imperiale a roma mentre il 17 ottobre 1028 fu presente alla consacrazione della chiesa del monastero di san giusto di susa voluto e fatto edificare dal marchese di torino olderico manfredi san guglielmo si interessò di musica e fu assai attivo nel rinnovamento della liturgia monastica soprattutto del canto al suo insegnamento si riferisce con buone probabilità il manoscritto conservato a montpellier redatto per la scuola di saint benin di gigione nel quale i pezzi melodici sono raggruppati per generi e per toni e connotazione sia neumatica sia alfabetica a lui viene attribuita anche l'introduzione del ling organum primitiva forma polifonica costruita su una melodia gregoriana l'influsso di guglielmo di carattere spirituale sociale culturale architettonico artistico si propagò fino in inghilterra nel primo quarto dell'undicesimo secolo lo scriptorium di fe camp elaborò sotto la sua influenza e quella del suo successore giovanni da ravenna un proprio stile di decorazione libraria con l'attività di promozione dell'edilizia religiosa contribuì al diffondersi in francia dello stile romanico e della tecnica della copertura a volta di lui restano una dozzina di lettere e il trattato de vero bono et contemplazione divina mentre di altre sue importanti opere di cui si conosce il titolo non ci sono più tracce guglielmo da volpiano riformò lo statuto dei conversi che divennero familiari dei monasteri benedettini e impose maggiore disciplina nell'osservanza più rigorosa della preghiera ma anche del cibo e delle vesti